Il consigliere della civica trentina Claudio Civettini ha presentato oggi un'interrogazione al consiglio provinciale in merito a Magga Zanga di Arco, di proprietà dell'amministrazione comunale e che si trova in località Castil, appunto sul Monte Velo. Attività che contempla un ristorante, bar e attività di affittacamere e 14 ettari di terreni circostanti che vanno manutentati e puliti dai gestori. Sappiamo, scrive il consigliere, che nel marzo 2016 era stata affidata ad una società la gestione di Magga Zanga per sei anni, eppure tale progetto oggi sembrerebbe in forze, se è vero che fu affidato con un bando pubblico ma che, e di questo se ne chiede conferma, sembrerebbe si sia verificato un passaggio di consegne scavalcando l'eventuale secondo assegnatario, dando la ingestione, e non se ne capiscono le ragioni né le procedure, prosegue Civettini, ad una società o gruppo che sarebbe addirittura di Nocera. Un passaggio sicuramente di chiara singolarità, per ottenere chiarimenti sul quale si presenta un apposito atto ispettivo. Grazie. Grazie. Grazie.